Tentare di recuperare i dati e le funzionalità di un vecchio hard disk, a volte, può richiedere solo dei semplici passaggi, tipo i seguenti. 1. Smontare il coperchio per accedere al disco e dal braccio di lettura per un controllo visivo di eventuali danni alle parti meccaniche. 2. Sostituire la scheda elettronica con un'altra di un donatore compatibile. 3. Collegare l'hard disk ad un adattatore esterno USB. 4. Se non si devono recuperare i dati provare a formattare e montare l'hard disk. 5. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse initare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.